Allora, benvenuti a chi ci guarda, benvenuti a tutti voi, come vi ho preannunciato stasera abbiamo una mezza bomba, cioè Mattia, che come vi spiegherà ha iniziato a fare un statore delegato di One Day da pochissimo tempo, quindi è un po' un parallelo con Andrea Porcu che ha iniziato a fare il direttore generale qua da noi e avendo fatto un pranzo con lui, avendo chiacchierato con lui più volte sono sicuro che stasera ci divertiremo. Lascio a lui la parola, ricordo che hai circa un'ora per raccontare tutto quello che vuoi e hai circa un'ora per essere massacrato da noi. Sì, ho fatto i compiti a casa, in realtà mi sono studiato le management pills che mi ha girato Chiara in preparazione e devo dire cercherò di stare un po' più sintetico sulla parte di comunicazione, anche perché sono le 6, se no vi trovo con la schiumetta entro 40 minuti. Oggi vi parlerò di cose un po' pratiche ed operative, ho visto che tante le domande che fate sono legate un po' alla vostra routine quotidiana di lavoro, quindi mi piacerebbe farla molto non frontale, non lexio magistralis io che parlo, ma tante domande. Domande, chi più ne ha chi più ne metta, delle cose più operative del mondo, scoprirete che comunque ho dedicato un sacco di tempo a cercare di strutturare me stesso, quindi a preparare me stesso nella routine quotidiana e magari ci può essere qualcosa che vi può essere utile. Quindi oggi il mio intervento, su che cosa verterà, è su una cosa che io chiamo The Playbook, che ho sviluppato negli ultimi dieci anni di lavoro, in modo molto, devo dire, non mi viene neanche la parola, disciplinato. Io mi sono segnato tutte le best practice che imparavo mano a mano che lavoravo. The Playbook è una cosa pratica di tutto quello che sono i miei appunti e che mi sono scritto sui vari topic all'interno dell'azienda. Quindi io ho un'app all'interno della quale fondamentalmente per tipologia, da hiring a gestione strategia, a whatever, a productivity personale, mi sono segnato tutti i learning che mi sono portato a casa negli anni. Detto ciò, sembra un po' pesante, spero di renderlo molto più leggero di quello che è. Allora, innanzitutto, io in realtà mi sono presentato qui come co-founder di Dalani Westwing. Oggi vengo qui in veste di amministratore delegato, di CEO di One Day. Avete conosciuto Paolo? Mi sono visto tutta la lezione di Paolo. Fondamentalmente dalla lezione di Paolo cercherò di entrare molto più nel pratico e di raccontarvi una serie di cose che lui vi ha citato, perché tante delle cose le abbiamo un po' impostate insieme in questi mesi. La mia storia, e qui vi racconto un po' di me, ho 34 anni, ho lavorato prima in Bain per due anni, quindi ho fatto il consulente strategico, ho fondato Dalani in Italia nel 2011, dove sono stato per otto anni dal 2011 al 2019. L'anno scorso Westwing, che è il nuovo brand della, by the way, la conoscete Dalani? Sì, tutti, benissimo. Westwing anche. L'anno scorso abbiamo portato il gruppo ad IPO, quindi ci siamo quotati a Francoforte nel 2018 e da il 4 di novembre sono diventato CEO di One Day, sono diventato socio di Paolo, ho investito, ho fatto debito in un'operazione in cui fondamentalmente ho fatto un all-in per costruire One Day e far evolvere One Day nei prossimi, speriamo, 20, 30, 40, 50 anni. Ho visitato 71 paesi nel mondo, questo spiega un po' anche il motivo di tutto il mio, diciamo, cambio di lavoro, quindi una delle mie passioni più grandi è sempre stata a viaggiare e ho tre vocazioni semplici, così settiamo già il punto fondamentale. Quando ho conosciuto Luca, gliele ho raccontate e penso sia uno dei motivi per cui sono qua. Le mie tre vocazioni sono l'apprendimento, leggo studio, dedico un sacco di tempo e di ore a imparare fondamentalmente e ogni minuto per me è un'occasione per imparare. Oggi sono qui per imparare come fate voi una serie di cose. L'avventura, le 71 viaggi di cui vi parlavo prima, bisogna essere molto disciplinati per visitare 71 paesi, quindi deve essere una cosa che si fa costantemente per vent'anni. Quindi questo è sempre per darvi una view pratica delle cose. Le relazioni, dedico un sacco di tempo alle persone, soprattutto una delle cose che ho sempre detto a Paolo, uno dei motivi per cui vado in One Day è la cultura people centrica e ho trovato finalmente un posto dove poter avere un impatto sulle persone in primis e poi sul business. Quindi io prima lavoro sulle persone e poi di conseguenza mi aspetto che il business agisca di conseguenza. Come vi dicevo ho fatto l'in per diventare socio di One Day e l'obiettivo in questo momento è uno scale up anche internazionale di One Day per portarlo a 100 milioni. Quindi direi che abbiamo settato un po' la serata. Dopo avervi spiegato chi sono io, è importante che vi spiega anche il mio approccio. Quell'apprendimento che vi dicevo prima, come si traduce? Si traduce in una cosa molto semplice, un po' matematica, però per le persone matematiche in sala, che sono nessuno, a parte Luca, è quello che io definisco il growth mindset. Voi dovete pensare che nel mondo ci sono due tipologie di persone. Ci sono le persone che pensano che tutto sia già scritto, quindi non possiamo migliorare, non possiamo crescere, non possiamo, come posso dire, è tutto già definito, e le persone che pensano che comunque si evolva nel tempo. Nello specifico questo tipo di pensiero evolutivo è quello che io traduco sempre in questa equazione, cioè che se noi cresciamo l'1% ogni giorno per 365 giorni in un anno, ci ritroviamo alla fine dell'anno in cui siamo 37 volte quello che eravamo all'inizio dell'anno. Quindi l'effetto di conoscenza accumulato è esponenziale, non è lineare. Boom! Ho fatto, ho fatto, ho ucciso tutta la platea. No, la differenza qual è? Che se noi peggioriamo ogni giorno, in realtà, alla fine, quell'1% per 365 volte, 365 giorni l'anno, in realtà ci porta praticamente ad annullare noi stessi. Quindi sono proprio due facce della stessa medaglia, però è molto importante per farvi capire quanto io, diciamo, ho lavorato su questo aspetto quotidianamente, cioè per me ogni giorno devo imparare quell'1% in più. E alla fine, accumulato negli anni, quell'effetto mi porterà ad essere sempre più bravo, sempre più performante e poter essere sempre più diretto nell'aiutare le persone con cui lavoro. Ok? Bene. The Playbook. Il nome. Da dove arriva? Allora, questa è la storia effettiva del nome di questa cosa qua. Innanzitutto arriva da questo libro che si chiama The Hard Things About Hard Things, che è un libro super interessante. Ho visto che vi piacciono i libri, quindi ogni tanto ve ne cito qualcuno. È un libro super interessante, se non l'avete mai letto, è stupendo. Qualcuno di voi l'ha letto? Lo conosce? Tu si? È stato scritto da Ben Horowitz, che è il, diciamo, il fondatore di un venture capital americano che si chiama Andreessen Horowitz. È considerato uno dei migliori venture capital mondiali. E lui in questo libro parla di una persona che ci aveva assunto nel mondo sales, che quando si è presentata gli ha detto, guarda, io quello che faccio lo faccio così. Ha tirato fuori un libro e ha detto, questa qua è tutta la conoscenza accumulata che ho fatto nel mondo sales. Lui quando l'ha assunto ha capito qual era la differenza di una persona molto professionalizzata nel mondo sales rispetto a chiunque altro. Ok? Quindi io da questa idea ho detto, ma scusami, ma perché non lo faccio anch'io questa cosa qua? Perché devo lasciarla fare agli altri? E allora ho iniziato in modo molto dirigente a farla in modo costante. Un'altra cosa da cui si ispira il nome è il, non so se lo sapete, sono gli schemi dell'NFL. I giocatori di NFL per prepararsi alle partite, e poi lo scoprirete perché lo cito, fondamentalmente hanno degli schemi che devono sapere a memoria. Li provano e riprovano fino a quando non li sanno a memoria, fino a quando il cervello lo considera come una cosa data. Non è The Playbook, quello di How I Met Your Mother, di come portare fuori le ragazze a cena. Ecco, questo era un po' per darvi il framework e il motivo del nome. Fisicamente che cos'è? E qua, sempre nella mia parte pratica, è un'app in cui, vedete, c'è un punto che si chiama The Playbook e questi sono tutti i punti, in realtà solo quelli che ci stavano nello screenshot, sono tutti i punti macro che mi sono segnato negli anni. All'interno di questi punti macro voi potete immaginare che li potete esplodere per n volte, no? Quindi se io mi devo ricordare processo di hiring, quali sono i punti critici più importanti, vado a vedere su quest'app e a un certo punto riesco a tirarlo fuori. Posso anche fare le ricerche, quindi è molto figo, anche per questo. Mi aiuta un casino perché scrivere le cose mi permette di digerirle. Per come sono fatto io, nel momento in cui rielaboro e scrivo, automaticamente è come se il mio cervello lo registrasse, ok? E quindi faccio meno fatica a ricordarmelo dopo, ma soprattutto ho un sistema tale per cui, se ho bisogno, so esattamente dove andare a prenderlo, ok? Però di tutta questa roba, cioè uno dice, ma ok, ma di cosa ci parli stasera? Io stasera vi parlo di questi sei punti, che sono secondo me la summa, diciamo le cose un po' più interessanti, un po' più rilevanti nella vita pratica lavorativa di tutto quello che è questo playbook. Poi ci sono tante variazioni, ma alla fine questi sei secondo me sono quelli che se uno mi dice quali sono le cose che devo sapere nella vita, nella vita professionale, queste sono un po' i miei learning principali, cioè quindi vi sto cercando di trasmettere dieci anni di lavoro in dieci minuti, in realtà dieci minuti. Vado molto veloce, questo potenzialmente potrebbe generare un sacco di domande, però partiamo da la prima cosa semplice, i principles. Voi avete principles, Duka? Principles culturali fondamentalmente. Ok, questi sono molto operativi in realtà e sono due principles diversi. Da una parte sono i principles di leadership, quindi un leader per me cosa deve fare e dall'altra sono principles proprio operativi. Io di solito lo spiego così e quando sono andato al BPM di One Day l'ho spiegata così, i principles di leadership sono un po' come quando decidiamo che nella nostra vita vogliamo studiare, molto alti. I principle operativi sono un po' come dire prima di andare a letto tutti i giorni devo lavarmi i denti. Simple as that. Ok? Perché sono quelle abitudini che comunque ti permettono di continuare a diciamo costruire la giusta cultura all'interno di un'azienda. Ok? Quindi vi faccio degli esempi. leadership principles sono super semplici. Lead by example, keep a growth mindset and be curious. Tutti in inglese, scusate. Io prendo un sacco di appunti in inglese per non chiedetemi per quale motivo, per cui tutte le esali sono in inglese. Oppure pochi ma eccezionali sono meglio di tanti ma mediocre. Si prende full responsabilità piena di tutte le azioni che si fanno. Oppure bisogna comunque lavorare per fare mentoring del team e cercare di portare al full potential. Bisogna essere super dettagliati, quindi bisogna stare dalla parte strategica all'essere super dettagliati operativi. Copiare con grande orgoglio, quindi le best practice non ha senso reinventarsi la ruota ogni giorno. Questo è un principle super interessante che è di focalizzarsi sugli input e non sull'output. C'è un libro by the way su questa cosa che è molto bello. È come quando voi vi allenate. Non so se qualcuno di voi fa sport, ma se vi allenate, io ad esempio gioco a basket ed è allenarsi sul tiro. Se io mi alleno sul tiro, la percentuale, la probabilità che durante la partita avrò uno scoring più alto, si alza. Ok? Quindi è focalizzarsi sull'input di allenamento, quindi allenarsi di più, piuttosto che sull'output che dovrebbe arrivare in automatico. Semplificare è essere sempre pratici e essere brutalmente onesti e trasparenti. Questa cosa in realtà è molto complicata da fare. Cioè se mi dovessi dare un rate di tutta questa cosa qua, in realtà io non sono neanche a metà strada. Cioè ci lavoro, ci continuo a lavorare, però è molto complicato riuscire a rispettarli tutti e dieci in contemporanea. Allo stesso tempo gli operating sono quelli un po' più interessanti e sono che bisogna essere preparati ai meeting. Simple as that. Se posso dirvi, nella mia esperienza professionale, il livello di preparazione dei meeting è, diciamo, variabile, molto variabile. La verità è che quando si fa un meeting tutti preparati si va molto più veloci, non c'è niente da fare. Iniziare in tempo, che è un tema molto culturale lato nostro e che ho vissuto nel lavorare con aziende tedesche, vi posso assicurare che è molto più efficiente iniziare meeting in tempo. Perché? Perché se fai un meeting con 10 persone e siete tutti in ritardo di 15 minuti, sono 15 minuti per 10 persone. E quell'effetto è un effetto moltiplicativo. Il follow up è un'altra delle mie fissazioni generali, che vuol dire, alla fine di un meeting ci deve essere sempre qualcuno che manda il follow up di quello che si è detto nel meeting. Deve essere sempre tutto scritto e ci deve essere un sistema per cui volta per volta si gestiscono le cose che sono state dette la volta prima. Focus e prioritizzazione, di solito io la riassumo in family list delle tue priorità, elimina tutte quelle sotto la terza. Questo è molto semplice. In questo mondo è molto complicato, perché la verità è che siamo sempre tirati un po' da tutte le giacche, da tutte le parti. Il quarto è negoziare e fare challenge per definizione. Quindi io, per definizione, quando mi dicono qualcosa cerco di negoziare oppure cerco di fare challenge. Ed è un principle che abbiamo costruito in realtà insieme a Paolo, perché volevamo proprio costruire una cultura di challenge continuo. Il sesto è stato il punto che ha generato più domande dopo il business plan meeting di One Day, che è la blank desk policy, che vuol dire tendenzialmente, quando la spiego io faccio l'esempio degli chef. In una grande cucina di solito cosa succede? Quando costruisci la linea, lavori in modo molto focalizzato. Quindi la linea è focalizzata per quello che serve in quel momento, poi si pulisce il desk, si fa pulizia e si parte con un'altra linea. E quindi è esattamente lo stesso principio per la nostra schivania. Quando c'è la schivania troppo incasinata, vuol dire che in generale non sono chiare le priorità nella pratica in soldoni. Questa cosa ha generato, ha triggerato una serie di dubbi amletici, devo dire, perché è molto complicato. Cioè bisogna essere quasi zen a lavorare in modo così. Non vuol dire la blank desk policy che non si può personalizzare il desk. Questo è l'altro tema che è emerso nelle varie domande. Quindi il desk è sempre personalizzabile, però deve essere sempre focalizzato sulle priorità di quel momento. Non procrastinare, essere opinionati, quindi opinionati, si dice opinionati? Vabbè? No, non si dice. Avere una view sulle cose, cioè avere un proprio pensiero. Non perdere mai una deadline. E questo è un altro principio un po' complicato che si chiama disagree and commit. Facciamo un esempio che Luca vi dice che decide che vuole prendere una certa direzione strategica per l'azienda. Facciamo un esempio che Andrea non è d'accordo. Esiste sempre un jolly che si chiama disagree and commit. Cioè va bene, mi porto a casa che non siamo d'accordo, però da un punto di vista aziendale, gerarchico, sa da fa. E se sa da fa, so che non sei d'accordo e mi hai detto che non sei d'accordo, ma committati, impegnati lo stesso a farlo. Che è un principio molto diverso dal voler avere tutti allineati sempre in ogni caso. Ok? C'è una cosa che non c'è qui, ma che ho sentito citare da Luca nelle domande che aveva fatte Paolo, che è un principio che è uno degli learning grandi che ho avuto nella mia esperienza ed è che lui ha chiesto, ma secondo te è più importante la percezione o la realtà? Cioè, qual è il rapporto tra percezione e realtà? Benissimo. La mia esperienza è che perception equals to reality. Quindi la verità è che la percezione viene percepita dalle persone esattamente come se fosse la realtà. E quindi nel momento in cui assorbi questo principio capisci che un sacco di cose in realtà dici, ok, assumo che comunque la tua percezione sia la verità e quindi devo lavorare per cambiare questa percezione. Ok? Quindi l'honor della prova è sempre nei confronti della persona, diciamo, opposta. Vi faccio un esempio pratico. Se Luca pensa che Andrea passa troppo tempo all'orologio, allo smartwatch della Apple, all'Apple Watch. Cioè, quindi è così. Anche se tu poi rispondi e dici no, però i dati mi dicono che in dieci secondi, io guardando dieci secondi lo smartwatch durante la giornata non dedico più dello 0,002%, la verità è che la percezione è sempre quella e la realtà sempre quella è. È chiaro? Non è molto chiaro. A te è chiaro? Ok, no, però ci può stare, ci può stare, però poi magari dopo mi fai qualche domanda. Questo è una cosa, cercherò di, in realtà sto già andando troppo lungo, questo è quello che io definisco il management system. Quindi quando sono arrivato in One Day ho portato un'altra cosa che ho imparato nel tempo ed è, sapete che c'è una differenza sostanziale tra fare linea e staff all'interno di un'azienda. La linea è sales, produzione. Quindi sono cose ripetitive in cui bisogna essere iper efficienti e portare a casa determinati risultati. Lo staff è progetti, diciamo, momentanei, quindi business development per intenderci, no? Quello che io ho fatto nel tempo è mi sono strutturato un sistema tale per cui le persone, i leader all'interno dell'azienda hanno dei momenti in cui fanno determinate cose. Nella semplicità cosa vuol dire? Che tutti possono fare one to one all'interno dell'azienda e hanno il diritto di fare one to one con il loro leader. Tutti i vari team fanno dei weekly team meeting strutturati. Ogni company all'interno di One Day fa un executive committee strategico mensile in cui per due ore, chi se ne frega dell'operatività, si parla solo della strategia e si cerca di guardare oltre l'ostacolo. Ok? Questa cosa permette esattamente come quando ci si lava i denti tutti i giorni di avere dei momenti chiave all'interno della vita aziendale. Ok? Le cose importanti su cui mi focalizzo sempre, anche adesso che sono arrivato in One Day, sono i one to one, che è uno strumento, secondo me, nella mia esperienza, è sempre stato uno strumento potentissimo per creare relazioni all'interno del business e creare non solo allineamento ma anche informazione. Iolens, che è il momento in cui la plenaria, che non so se voi la fate Luca, ma è un momento in cui ogni mese comunque viene dato un po' l'update di quello che sta succedendo e quello che non sta succedendo. E i weekly meeting. Poi questo è un sistema molto complicato che si struttura di meeting, di report e vi devo dire che il feedback che ho avuto dai ragazzi di One Day è che adesso vivono in meeting praticamente. Quindi c'è anche proprio un tema che portato un po' all'eccesso, è effettivamente una cosa che congestiona un po' l'agenda, però voi pensatela come leader, pensatela come se foste Luca o come se foste Andrea e voi il lunedì mattina avete una serie di meeting per cui sapete che durante la settimana incontrerete comunque i vostri riporti, gli dedicherete del tempo e dedicherete del tempo al team e dedicherete del tempo alla strategia e prepararsi a ognuno di questi momenti. Quindi senza dover troppo gestire mail piuttosto che fare cose, questo qui è un sistema per fare in modo che vengano a galli i problemi e si possano gestire i problemi. È abbastanza chiaro o va bene? Ho visto le persone… Questa è un'altra cosa che ha citato Paolo ed è il working with. È una cosa che abbiamo strutturato e che ho strutturato negli anni ed è proprio ogni persona che lavora con me sa esattamente dal primo giorno come io lavoro e cosa mi aspetto da loro. Nello specifico è diviso in quattro, in cinque punti che sono l'approccio alla leadership, quindi come mi aspetto che tu come leader, diciamo, lavori all'interno dell'azienda e prendi le decisioni. Il management system, quello che vedete, one to one, hai sempre diritto al one to one, facciamo weekly team meeting, eccetera eccetera eccetera. La gestione del team, quindi come mi aspetto che venga gestito il team e come lo gestisco io il team. La comunicazione, inteso da dire prima mi scrivi le mail se ti serve fare follow up, oppure mi chiami, oppure mi mandi il whatsapp quando serve ma non aspettarti follow up. Cioè questo tipo di gestione e i logistics, quindi se vai in ferie non c'è nessun problema, mi mandi calendar e io lo so, siamo allineati, nel caso includo i dubbi, è mia ownership dirti di no. Quindi è proprio un modo di lavorare con me. Questa cosa se vi dovesse dire, non solo lato mio, lato persone che lavorano con me, ma anche lato tutto il team, porta un grandissimo allineamento e una semplicità di lavoro. Vi faccio un esempio, nel mio caso una delle cose più impattanti è che io adoro le mail con quelle scritte nell'oggetto. Perché? Perché in realtà se mi scrivete una mail lunga 67 km, purtroppo non la leggo. La probabilità che io la lega è veramente pari a zero. E quindi le mail devono essere idealmente nell'oggetto, super sintetiche in cui c'è il problema. Se va spiegato, allora ho proprio un framework che è situation, complication e solution, tale per cui io riesco a seguirlo con i bullet point. Una mail a flusso di pensiero non la leggo per definizione. E qua c'è scritto. Non so se... Però è tutto un lavoro che ho dovuto fare su me stesso, perché in realtà questa cosa era un problema con tante persone che lavoravano con me. Cioè, alla ventiseiesima email, senza formatting, senza bullet, a flusso di pensiero, a un certo punto dicevo alle persone, guarda, non me ne volere, ma io non posso fare il tuo lavoro. Cioè, devi dipanare tu quelli che sono le priorità che mi devi comunicare. Se non sei in grado di comunicarmene te, figurati come faccio a tiratele fuori io. Questo è un po' il principio base. Vedo che stai tamburellando con le mani, quindi ti sta venendo da ridere. Questa è un'altra cosa che in realtà mi prendono in giro un sacco di persone che hanno lavorato con me. Nel mio generale approccio super produttivo ho strutturato un sistema per cui non mi devo mai ricordare cosa devo fare. Bello, eh? Cosa vuol dire? Vuol dire che io gestisco le email e il calendario come se fossero il mio, non so come dire, la mia segretaria. Cioè, arrivo la domenica sera in cui so già esattamente cosa devo fare tutta la settimana e non mi alzo neanche a dire oddio cosa devo fare. Cioè, ho tutto già strutturato e l'unica cosa che devo fare è execution di tutto quello che ho già strutturato. Ci ho messo sei anni a fare questa cosa qua. Nella sintesi cosa vuol dire? Che le mie mail sono tutte priorizzate. Ho zero inbox policy, quindi voi alla sera quando vado a casa non ho mai una mail da leggere. Che è una roba che mi ha sempre messo uno stress direi disarmante. La seconda cosa è tutte le mail le gestisco per priorità. Quindi la mail lunga che vi dicevo prima, scritta senza bullet. Guardo le prime due righe, se non mi interessa non la guardo più. Quindi non perdo tempo su questa roba qua. Se ci sono delle mail complicate a cui devo dare risposta, le prioritizzo. Se devo dare risposta urgente, flag rosso. The urgent must do. Se devo dare una risposta quando ho tempo, ho un momento nell'agenda durante la settimana in cui mi gestisco tutte quelle cose lì. Così il mio cervello sa benissimo su che cosa mi devo focalizzare in quel momento. On top a questo ho il calendario in cui ho dei momenti in cui sono fissi. I one to one con il team non si spostano mai, no matter what. Perché è il mio momento in cui dedico del tempo a loro. I meeting con esterni hanno un colore. È tutto colorato il calendario. Questo non è il mio, ma è uno dei ragazzi che lavora con noi one day. Ogni tipologia di meeting ha un colore diverso. Perché i one to one non si devono mai spostare. I meeting strategici hanno un colore specifico perché devi sapere che c'è un tema di preparazione prima. I meeting con gli esterni hanno un altro colore perché ti aiuta a ricordarti che in realtà quel meeting lì devi darti almeno 15-20 minuti prima, prima di andare a incontrarli. Questa roba qua, messa insieme, posso assicurarvi che mi ha permesso di lavorare vi direi 10 ore in meno alla settimana. Solo questo sistema. Nello specifico dovete pensare che a me arrivavano più o meno 500-600 email al giorno quando avevamo fondato Westing. Poi ho fatto un po' di lavoro, però se ci mettete due secondi email, 500 email, solo aprire e chiudere senza neanche leggere, quei due secondi vi bruciano praticamente due ore e mezza della giornata. Quindi c'è proprio un tema di gestione email rilevante. Quindi il management system da una parte che lavora per me, email che lavora per me, calendario che lavora per me, il mio tempo e la mia testa è focalizzata non sul pensare cosa devo fare, ma su dare attenzione in quel momento alla persona che ho di fronte, al meeting che sto facendo e in un modo o nell'altro gestisco tutto. Ah, questi erano i giallo e privato, verde one to ones, meeting interno in blu, to do's in rosso, cioè che sono i momenti di deep work, quindi non so se hai tre ore di focalizzarti su un tema, e i meeting con esterni in viola. Dovrei esserci. Questo è l'ultimo punto, diciamo, chiave, poi in realtà il sesto è un po' una cosa che ho letto e che mi ha aperto un po' di temi, ed è l'importanza del linguaggio. Cioè, fino a un certo punto della mia, diciamo, storia, non ho dato tantissima importanza al linguaggio. In realtà ho scoperto che essere, diciamo, efficaci nella comunicazione è cento volte più impattante rispetto al non essere efficaci. Cioè, una cosa è che si può preparare quello che si vuole dire, dall'altra cosa è che ci sono proprio dei format standard nel modo di comunicare che hanno un impatto molto più rilevante. Cioè, se io voglio che voi mi seguiate mentre sto parlando, ci sono delle tecniche. Queste sono le tecniche. L'effective language è esattamente le tecniche di comunicazione efficace. Io di solito le uso sui sales, perché mi piace molto il mondo sales B2B. Sono un grande amante del call calling. Non so se qualcuno di voi sapete cos'è il call calling. Chiamare i clienti al telefono e cercare di convincerli. Ok? Che è una roba proprio sales pura. Cioè, più sales di così non c'è niente. E questo è il linguaggio che si utilizza quando vuoi far seguire qualcuno al telefono di cui non gliene frega assolutamente nulla quello che gli stai dicendo. Ok? La prima cosa sono le domande retoriche. Quando vi faccio la domanda, ma voi sapete qual è la domanda retorica? O sapete cos'è la domanda retorica? E vi sto rispondendo, è una domanda retorica. Perché? Perché in realtà nel momento in cui sentite la domanda, per definizione, verrete attratti dal fatto che la domanda fosse stata fatta a voi. Ok? Questa è la singola cosa più importante per, diciamo, tenere un gruppo o comunque avere una comunicazione efficace. Announced and short counting vuol dire, se io vi dico queste sono le tre cose più importanti che ho imparato nella mia vita, e se vi dico la prima, la seconda, tendenzialmente il vostro cervello cercherà di unire i puntini e cercare la terza. Quindi sarà molto più facile seguire la struttura. Da cui, il mio consiglio, questo funziona anche nelle mail, se date uno, due, tre, si legge molto di più la mail. Usare le motivazioni, il perché. Di solito questa la spiego così. Se voi siete in una fila e arriva una persona che vi chiede di passarvi e vi spiega il perché, vi chiede di passarvi, la percentuale che voi lasciate passare aumenta in modo smisurato. Ok? Quando voi spiegate il perché delle cose, e questo anche lato mio e penso di Luca, come leader, se voi spiegate il perché state facendo fare le cose delle persone, si alzerà la probabilità che queste persone le facciano. Esempi, metafore, storie. Quando vi parlavo dello chef, quando vi parlavo... Cioè, sono tutte cose che prendono un concetto complicato e lo tramutano in qualcosa di molto semplice. Spesso ce lo dimentichiamo di quanto è importante usare gli esempi e le metafore. A me adesso viene quasi in automatico. Quindi, quando ho una roba troppo complicata, il mio cervello dice ok, qual è un esempio che può spiegare questa cosa qua. I superlativi sono fondamentali. Essere un po' bold, essere un po' dire siamo i numeri uno... Non lo so. Voi siete i numeri uno di... Scusami? Siamo i numeri uno della sanità privata italiana. Non c'è nessuno come noi. Tu dici, cazzo stai dicendo... Cioè, fondamentalmente... Però, solo dire questa cosa qua, dà molta più forza al messaggio che viene passato. Ricordatevi sempre che questa è un'ottica sales, ma la verità è che funziona uguale. Cioè, in un meeting funziona uguale. Questa è la nostra strategia per il 2020. E cosa puoi dire a uno che ti dice così? Chapeau. Benissimo. Grande convinzione. Statement judgments è quello che vi dicevo prima. È sempre collegato. Quindi, utilizzare i superlativi e dare proprio delle frasi corte. Per questo che adoro le email scritte nell'oggetto. Non mi offendo, by the way. È bellissima questa cosa. Perché tutti si offendono quando non si scrive ciao. Poi personalizzare, quindi spiegare perché vi è utile. Cioè, perché stasera può essere utile questa roba qua. Perché io vi sto rassumendo in 25 minuti quello che ho imparato in 8 anni di lavoro. Automaticamente seguite molto meglio tutto quello che vi sto dicendo. Sum up and conclude. Quindi tirar fuori un minimo di summa di tutto quello che stiamo dicendo. E suggerire e proporre quali sono i next step. I prossimi passi sono che speriamo che l'anno prossimo avrò qua a farvi il follow up di tutto quello che vi ho detto oggi. E vi racconterò l'esperienza di One Day. Ok? Quindi questo è un po' in 35 secondi quello che è stato un po' una cosa chiave che mi ha cambiato il modo di gestire le relazioni con le persone. Sempre legato al mio punto iniziale. Di questa cosa che vi ho raccontato in 5 punti in 25 minuti in realtà in One Day ci abbiamo fatto un'academy che abbiamo chiamato Leadership Academy. In realtà adesso la trasformiamo in One Day Academy. Quindi su tutta la leadership noi facciamo questo tipo di percorso in cui la produttività sulla gestione email, la gestione dell'agenda, in realtà abbiamo capito che è un'esigenza di chiunque e quindi abbiamo cercato di portare questa esigenza alla portata di tutti. E chiudo raccontando, visto che siete tutti molto giovani, in realtà ho detto qual è una cosa che ho imparato che potrebbe essere utile? Ed è questo libro che si chiama The Long View, che è super interessante perché mi ha cambiato completamente la visione della carriera. In realtà quello che noi non consideriamo mai è quanto tempo andiamo a lavorare nella vita. La verità è che ognuno di noi lavorerà più o meno 45 anni, ok? Quindi voi dovete pensare che magari avete fatto tra i primi 5 e i primi 10 anni di lavoro, ok? In realtà ve ne mancano altri 35. Quindi è una maratona la carriera, non è una roba che domani mattina faccio il rush e porto a casa quello che voglio. E nonostante ciò, se voi andate ad analizzare l'80% delle decisioni di carriera vengono prese per i soldi che vengono dati alle persone nel next step, ok? Quindi le persone nell'80% delle volte scelgono il posto che gli offre più soldi. Che se ci pensate è un contrasto spaventoso. Allora ho detto, va bene, ma ragioniamo in ottica un po' più strutturata. Questo libro diciamo racconta cosa posso fare io, come posso vedere la mia carriera e la divide in tre pezzi diversi. Ci sono i primi 15 anni, i secondi 15 anni e gli ultimi 15 anni. I primi 15 anni sono quelli del learning, quindi l'obiettivo è essere esposti a più cose possibili, imparare più cose possibili, vedere più cose diverse possibili e capire qual è la strada nella vita. I secondi 15 anni, quindi non si parla mai di soldi in tutto questo paradossalmente, però nonostante ciò l'80% di noi sceglie sulla base dei soldi. Il secondo periodo è quello in cui di solito si fanno i soldi, perché è il periodo in cui si è al massimo della propria carriera e si valorizza le relazioni, il team, le competenze che si sono costruite nei primi 15. e il terzo periodo è quello in cui si fa il give back to others, quindi una sorta di mentoring sugli altri. Quindi c'è tutto un lavoro di evitare alle persone di fare gli stessi errori che sono stati fatti nei primi due periodi, magari facendo crescere in modo molto più rapido dei ragazzi giovani che comunque sono nelle prime due fasi. Quindi questa prospettiva mi ha cambiato un sacco di scelte che poi alla fine, se devo dirvi la verità, ho fatto, e mi sono preso delle view molto più di lungo periodo di quello che volevo costruirmi. Lo sapevo già perché il playbook lo faccio da tempo, quindi è una roba che fondamentalmente per me è sempre stata esposizione, learning, avventura, uscire dalla comfort zone, fare delle robe che proprio non c'entrano nulla, però allo stesso tempo questo mi ha rincuorato un sacco, perché comunque sto cercando di costruirmi una serie di competenze per fare un progetto e un percorso che non è domani ma è forever and ever. E quindi qualche suggerimento che mi sono portato a casa dal libro ed è uno, avere un'idea di quello che si vuole fare nella vita. Adesso io una cosa che sto facendo in one day è incontrare tutti. quindi la prima cosa che ho fatto è, va bene, faccio one to one 30 minuti con tutti e all'interno del one to one chiedo sempre alla fine del one to one alle persone ok, ma tu cosa vuoi fare nella vita? Alcuni lo sanno, alcuni non lo sanno. Vi posso assicurare che saperlo è una figata totale, cioè semplifica molto, per quanto possa essere giusto o sbagliato, ma semplifica molto le scelte che si fanno. Su questo c'è un bellissimo deck che ho trovato che si chiama Lessons from my 20's di un ragazzo americano e che do sempre a tutti i ragazzi che seguo in questo progetto che si chiama Mentors4U. Seguo i ragazzi dell'università che devono prendere delle decisioni per la loro carriera su post universitaria e il primo meeting, il primo incontro che faccio do sempre solo questo deck, sono 1500 slide di questa persona che dai 20 ai 30 anni si è segnata tutto e alla fine ha fatto un deck in cui ha messo insieme quelli che sono stati i suoi più grandi learning dai 20 ai 30 anni. Il secondo punto è rimanere in quelli che sono definiti punti di opportunità, cioè gli insiemi di opportunità che sono il network, il mio team di West Wing mi prendeva sempre in giro perché io continuavo a dirgli che erano loro a dover investire nel loro network. Però la verità è che se non lo facciamo noi, se non lo fate voi, non lo fa nessuno. Cioè il network è fondamentale, mi fa capire che cosa succede. Io ho conosciuto Luca, ho conosciuto Andrea, li vedo qua oggi, li ho conosciuti in momenti completamente diversi, facevano cose diverse. Poi la verità è che le persone scoprirete che i cerchi sociali funzionano. E quindi riuscire ad avere accesso ad un certo tipo di network fa la differenza sul lungo periodo. La vostra crescita personale sarà data da questo. Spesso invece viene visto come una roba di dire che è una cosa che non si può fare. Invece ha del valore. La terza cosa è continuare a imparare. Io ho fatto un manto della mia vita, però avere l'umiltà di voler imparare è una delle forze più forti che ci possono guidare all'interno della vita. L'ultimo punto poi sono i settori, quindi ci sono dei mega settori che stanno esplodendo. Soprattutto nel vostro caso mi sento di dire, ho trovato molto fitting l'ultima frase, cioè focus on what can be improved in people's life. Cioè voi alla fine quello che fate è migliorare la vita delle persone. Io sono un vostro cliente e devo dirvi che, non so se vi passa, ma siete molto più efficienti, mi avete reso la vita molto più semplice su una cosa che è un pain totale di chiunque e di qualsiasi professionista che lavori dalle 90 alle 100 ore alla settimana come le faccio io, ok? Cioè voi non sapete che servizio ci date, ecco. Ci tenevo a farvelo passare. Questo è un bellissimo libro che è stato scritto da Alec Ross, che è la persona che lavorava con Hillary Clinton nel, adesso non mi ricordo, mi sembra, due mandati presidenziali fa. E lui aveva già definito quelli erano i mega trend. Perché? Perché comunque si sedeva al tavolo delle persone, diciamo degli stati rilevanti e vedeva dove venivano fatti gli investimenti. E vedeva a vent'anni data quello che sarebbero stati poi gli impatti. dovrei aver finito. Alla fine Chiara, 40 minuti, porca miseria. Speravo i 30. Parto io con il tema che ti dicevo prima, le percezioni. Il modo che io conto qua è che le percezioni delle persone sono un fatto. Ma non è detto che quel fatto sia vero. Faccio degli esempi concreti. Appunto, la mia percezione è che tu arrivi sempre tardi al mattino. Ma se tu arrivi alle 8 tutte le mattine, la mia percezione è un fatto. Ma il fatto che sta nella mia testa è sbagliato. Quindi quello che è rilevante è capire che le percezioni sono molto importanti. Ma non è vero che la percezione è vera. La percezione può essere sbagliata. E questo porta anche le persone di fronte a percezioni che ritengono sbagliate a poter interloquire. Questo è il tema. E' esattamente quello che intendo quando dico perception equal to reality. Cioè, se parti dal presupposto che la percezione sia la realtà, quindi un fatto, anche se non è vera, è comunque un fatto. Quindi è esattamente la stessa cosa che intendo io. Sette meno dieci, devo dire. Saverio, ti faccio una domanda. Quando ti alzi la mattina e quando vai a letto per riuscire a gestire così tante robe? Allora, dipende dai periodi. Adesso mi alzo presto e vado a letto tardi. Perché comunque nel cambio sono in un periodo in cui lavoro tanto. Però, in generale, no. Il tema è che questo sistema qua mi permette di lavorare meno ed essere molto più produttivo. Però in tutto il tuo calendario dove c'erano anche sovrapposizioni di eventi, quando è che hai il tempo anche di dire ok adesso mi organizzo la giornata o comunque le settimane? Ah, io la domenica sera mi organizzo tutta la settimana. Cioè la verità è che poi si auto-organizza. Però c'è un momento la domenica sera in cui ho un'ora in cui strutturo tutta la settimana. Proprio perché la settimana non penso neanche. Quindi le email che ti chiedono degli appuntamenti le lascio in giallo e le guarderai la domenica? O li guardo in rosso e li gestisco la sera. Sì, corretto. Io oggi non ho ancora aperto la mail, per darvi un'idea. Da stamattina alle 8. Scusate, non è che non ho aperto la mail. Se guardate la mia inbox è sempre zero, però non ho ancora gestito le risposte della giornata. Quindi ho passato un messaggio sbagliato, avete ragione. Sì, sì, sì. Mentre venivo in taxi però ammetto che l'ho fatto mentre venivo qui stasera. No, perché appunto la mia domanda poi era questa. Quindi significa che tu non ricevi nessuna mail che ha bisogno di una risposta immediata? Questa cosa che mi hai appena detto è uno dei learning più grandi della mia storia. Io non sono in nessun percorso critico di nessun processo. Ah, ok. Perché se fossi in un percorso critico di qualsiasi processo, però, perché posso, permesso che posso permetterlo, ma ho capito a un certo punto che non ero scalabile nel momento in cui ero nei percorsi critici dei processi. Luca e Andrea non devono essere in nessun percorso critico. Se loro sono in un percorso critico è un tema. Cioè l'azienda si blocca solo per il loro tempo. Ok. E i manager subito sotto di loro e quindi in one day i manager subito sotto di te, come li vedi in questo aspetto? Cioè nel momento in cui devi venire a chiedermi qualsiasi cosa anche per andare in bagno, in realtà è diventa un casino perché il mio tempo è mega problematico per fare l'enabler del tuo lavoro. Ma nel momento in cui tu sai che ci vediamo una volta alla settimana, il resto della settimana fai execution in totale autonomia e se hai qualche problema sono sempre disponibile, allora cambia. Cioè ti senti molto più responsabile del tuo lavoro. No, 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 ok. Però i manager di one day che sono sotto, immagino a te, Paola, adesso non so esattamente tutta la struttura come è diventata, loro sono, anche loro, tolti da completamente qualsiasi attività della catena operativa di emergenza? In realtà no, se ti devo dire ho iniziato a fare questo percorso adesso, in questo momento no, assolutamente no. Sono tutti molto critici all'interno di determinati processi, anche perché uno dei temi su cui stiamo lavorando è proprio cercare di orizzontalizzare tutti i layer, ok. Però il management system ti aiuta a costruire dei momenti in cui non hai più bisogno di fare 77 allineamenti quotidiani, ma hai un momento in cui ti sblocco tutto. Cioè tu immaginati che hai dei... al lunedì mattina arrivi che hai la lista di cose che ti devono essere sbloccate. In un'ora sblocchi tutto e tu fai tutta la settimana fare l'execution di quella roba lì. Ok, ok. Non so se ti ho risposto. Sì, 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 sì. Sì. Dipende da cosa intendi, se preparata la macchina oppure no. Fortunatamente ad un certo tipo di dimensione in questo momento le urgenze non sono cose che devo gestire in quel momento. Ho vissuto anche quel momento, devo dirvi la verità, e in quel caso quello che facevo è tenevo banda. Quindi io avevo degli slot all'interno della giornata, cioè non cambiava niente, però ho degli slot all'interno della giornata in cui so che posso gestire le mail, o le urgenze, o chiaramente se poi succede qualcosa mi chiamano, allora lì riprioritizzo tutta la giornata. Scusa, questo è l'altro modo che ho di gestire eventuali situazioni critiche. Facciamo un'ipotesi. Domani mattina decidiamo di fare full focus su un potenziale investimento. Io faccio debugging di tutta la mia agenda, la prendo, la butto nel cestino e mi libero tutte le giornate per fare questa cosa qua. Però lo posso fare solo se non sono in percorsi critici dei processi. Perché se invece continuo ad essere percorsi critici decisionali dei processi, allora lì basta. Sarò per sempre, forever and ever, solo dedicato all'operatività. Però questo è il mio lavoro, non so come dirvi. Per farvi un esempio di linea, manager di linea, quindi non so, mondo, vi faccio l'esempio pratico. Nel mondo dei viaggi, oggi stiamo costruendo su ScuolaZo, io adesso sono anche CEO ad interim di ScuolaZo, stiamo costruendo tutto un bellissimo processo che ho definito Shinkansen, che non so se sapete è il treno quello ad altissima velocità giapponese, in cui fondamentalmente noi abbiamo dei momenti strutturati in cui sblocchiamo le cose che sono pending. Abbiamo anche questa fortuna di non avere un, non so come dirvi, un business che è day by day ma è molto stagionale in questo momento. Se vi devo dare invece l'esperienza West Wing, in West Wing mandavamo una newsletter 365 giorni l'anno con 5 eventi di vendita di prodotti per la casa. Quindi noi mettevamo online 2.000 prodotti al giorno e quindi quei 2.000 prodotti dovevano essere editati, fotografati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un processo tale per cui noi sapevamo 7 settimane prima quello che succedeva, a 3 settimane facevamo un check, arrivavamo a 3 giorni prima che era tutto sotto controllo e la mattina alle 8 facevamo controllo che tutta la newsletter e tutto il processo prima l'avevamo smarcato. Questo cosa vuol dire? Che poi alla fine se voi guardate come è strutturato il vostro lavoro dei by day di solito è tutto prevedibile. Quindi se anticipi questa prevedibilità costruisci dei processi che ti permettono di andare in modo molto più lineare. Ho risposto? Allora volevo chiederti, mi sembra di capire che se dovessi fare una funzione dei soldi sull'asse delle Y e l'età sull'asse delle X sarebbe più o meno una roba così dove verso la seconda fascia si alza nettamente e poi si fa un tempo avanti. Se invece dovessi fare la stessa cosa con la percentuale del tuo tempo dedicata al lavoro dove sull'asse X hai sempre l'età? Ma è molto variabile. Lo faresti piatto? Secondo te varia con l'età? No, secondo me varia da quanto ti diverti da quello che fai. Cioè io mi diverto un casino quindi vado avanti un po' a ruota... Cioè uno dei miei temi è che lavoro anche a più infinito e quindi non riesco mai a dare un valore al tempo lavorato e di solito mi viene nei momenti in cui sto facendo una cosa che mi piace particolarmente. Capitano dei momenti in cui fai delle cose che non ti piacciono. Nel mio caso ad esempio è la gestione dei contratti. Vi faccio un esempio. Sulla gestione dei contratti ho bisogno di una serie di persone che mi aiutano perché esattamente come la mail lunga 65 km faccio fatica a fare debugging di quali sono le situazioni critiche quindi mi affido sempre a delle persone terze. Però per rispondere a te secondo me non è assolutamente... cioè non è legato all'età. Nel mio business precedente ho lavorato con largo circa 2.000 aziende italiane che producevano arredamento, mobile arredamento. Se ti dovessi dire correlazione sulla base dell'età dell'imprenditore rispetto alle ore lavorate, zero. Correlazione sulla base del passione dell'imprenditore in quello che fa rispetto alle ore lavorate, 100%. No, perché quello che mi viene da pensare è che ci possono essere dei fattori esterni nella vita di una persona banalmente avere un figlio. 100%. Che incasinano... cioè anche capisco il discorso e mi chiedo come gestire la passione con il fatto che poi ci possono essere delle risorse... Altre priorità. Confermo. Non ci sono ancora arrivato. Ci arrivo e ve lo dico ragazzi. Mi adego. Il mio sistema si adegua a momenti diversi. Però non sarei in grado di darti una risposta intelligente in questo momento. E io non voglio avere un figlio quindi non ti preoccupare. Comunque, no, invece una domanda sui cultural principles. Sì. Nel senso che noi abbiamo questi valori operativi che di fatto sono nati, li aveva scritti Lele, cioè a un certo punto era una roba un po' di comunicazione e suppongo che siano nati... No, è vero, li aveva scritti Lele, no? Per una cosa... comunque... Sono nati forse da cose che succedevano in azienda, cose di cui si parlava spesso, eccetera, eccetera. Ehm... Ora... No! No! Sono bellissime! Sono bellissime! Sono bellissime! No, no, sono bellissime! No, però... Mi chiedo, quando tu parli di cultural principles, sono tuoi? Sono dell'azienda? Allora... Quanto, secondo te, riescono a rappresentare l'azienda? Quanto, secondo te riescono a rappresentare l'azienda? Quanto, secondo te, riescono a rappresentare l'azienda? Quando Luca ha detto a gennaio escono i nostri, io ho detto... cioè... li votiamo? Ok, ho una bellissima risposta anche su questo, però... Quello che vi ho fatto vedere oggi sono i cultural principles da un punto di vista di proprio lavoro. Non c'entra niente con il cultural manifesto di One Day, che è una... Non mi ricordo se li abbiamo inseriti alla fine dell'ultima versione del cultural manifesto, perché la stiamo presentando anche noi adesso. Però è una parte molto operativa rispetto al cultural manifesto più generale. Ed è leadership e operating principles. Quindi sono cose non legate tanto alla cultura pura, ma legate a come le persone lavorano all'interno dell'azienda. La cultura che cos'è? È come vengono prese le decisioni all'interno dell'azienda. Ok? Quindi è una cosa ancora diversa. I principles sono quelle cose che non sono negoziabili. Cioè, se tu vieni da me e mi dici che non è colpa mia, non mi interessa. Quindi operativamente questi principles chi è che li scrive? In questo caso li ho portati io e li ho scritti negli ultimi dieci anni di lavoro. Ok, ok, ok. E li ho presentati al BPM perché è il mio modo di lavorare. Poi spero che... Per adesso ti dico il feedback di tutto il management team di One Day è... a livello operativo, a livello di leadership, li compriamo in toto. Siamo... Sono fortunatamente... Spero di essere calcio dal Fit Command Day. E quindi spero di essere esattamente spot on rispetto a quelle che sono le esigenze. Li abbiamo rivisti anche con Paolo. Quindi abbiamo aggiunto alcune cose. Tipo la parte di negoziare è una cosa che io lo davo per scontato. In realtà è un tema molto molto rilevante a livello di cultura. Effettivamente impatta la cultura aziendale. Hai ragione. Quindi sono dei livelli diversi. C'è calcio al manifesto, i valori, questi sono un passaggio ancora più pratico, ancora più operativo di questi ponti. Ok. Ti ho risposto? Sì. Quindi tu li presenti e dici io sono così e lavoro così, chi lavora con me deve lavorare così. No. No. C'è nel senso? Sono molto più... Cioè, non è chi lavora con me deve lavorare... Il working with è una cosa. Ok. Questi principles sono la mia best practice, di dieci anni di lavoro. Quindi è, se vuoi essere super performante, devi lavorare così. Ok, ok, ok. Perfetto. Oggi, se tu vai in one day oggi, ci sono i blank desk? No. Però non c'è nessun problema. Ok, perfetto. Ed è il tema che ha mandato tutti in ansia. Ok? È solo proprio... trasportare operativamente quei principi è molto più complicato di quello che sembrano. Perché scritti lì sono tutti bellissime. Le cose scritte sono sempre tutte bellissime. Però la verità è che la cultura del business è nella pratica le persone come decidono giorno dopo giorno. Quindi, io ti direi... Ce n'era una che... Meeting può avere effetti indesiderati. Le riunioni sono l'ordine del giorno, prepara l'ordine del giorno delle riunioni. Ok? Quella cosa lì, nella pratica, vuol dire... Voi, quando non c'è l'ordine del giorno nella riunione, non vi presentate in riunione? Assolutamente no. Eh... Però la decisione a livello culturale è, se quello lì è il mio principal, io ti do il diritto, come persona, di non presentarti al meeting senza l'ordine del giorno. Luca, se non c'è l'ordine del giorno, non si deve presentare al meeting. Quindi tu dici, per esempio, può essere utile associare ai principals, per renderli più operativi possibile, una practice proprio pratica, come quella di avere l'ODG e dire quindi non mi presento se non c'è l'ODG. Certo. Cioè non lasciarla nel vuoto. No, no. Però la verità è che poi questa cosa qua nella pratica si traduce in questo tipo di decisioni. Non è... La decisione non è che è chiara, però nel tempo si chiarificherà. Capito? Tra l'altro sto leggendo un bellissimo libro su questo, sempre di quel Ben Horowitz, ha scritto What you do is what you are. È un libro che è uscito un mesetto fa negli Stati Uniti e parla esattamente di questa cosa qua. Come si costruiscono le culture aziendali e vado ad analizzare praticamente le culture più forti che ci sono state nella storia. Nello specifico sto leggendo una parte legata all'unica rivolta di schiavi di successo nella storia, che è successa da Iti. Ok? E quindi vado ad analizzare quali sono gli effetti, cioè perché è stata di successo rispetto alle decine di migliaia di rivolte di schiavi che ci sono state. Il tema vero è che quando sono tutti allineati nel modo di decidere, allora la cultura è fortissima. Quando non è chiaro come tradurre nella pratica quelle cose lì, in realtà diluisci un pochettino l'effetto culturale. Capito? Cioè tu quando ogni giorno non ti presenti alla mattina in ufficio, devi sapere esattamente qual è il set di regole per prendere le decisioni. Quella roba lì è parte di tutto questo set di regole. Solo parte. Perché poi la verità è che c'è il culture manifesto sopra, ci sono i valori, ci sono tutta una serie di cose. Noi abbiamo un documento di credo sette pagine su questa cosa qua. Quindi la parte difficile non è scrivere il documento, è fare in modo che le persone poi lo vivano nel giorno dopo giorno. Vi faccio un esempio pratico di questa cosa. In realtà adesso se c'è qualcuno di OneDay che mi guarda non lo sa ancora, quindi non l'ho ancora comunicato. Però io ho un tema grossissimo perché noi vendiamo i diari su ScuolaZono e le persone utilizzano i diari per appoggiare i PC sopra, per tenere i PC alti. Per me una delle decisioni rilevanti è chiedere a queste persone di spostare quei diari. Perché quando i diari sono lì sotto in realtà sviliscono il valore di quel diario. Quindi le persone hanno la percezione in azienda che il diario lo può usare per appoggiarci sopra il PC. Non so come dirti. E quindi è una delle discussioni che sto avendo con Paolo. Però è a quel livello di dettaglio che fa la differenza. E se riesci a scalare quel livello di dettaglio e tutti sono sulla stessa pagina, in realtà è tutto molto più semplice. Non so come dirti. Perché gli allineamenti ce li hai quando hai dubbi. Se non hai dubbi, cioè se quelli lì sono i principal e sai come viverli, non c'è nessun problema. Cosa manca da quelli lì alla pratica? Quindi perché in questo momento non li stiamo ancora presentando? Perché nella realtà vogliamo renderli molto più operativi. Quindi cosa vuol dire essere puntuali nelle riunioni? Vuol dire essere puntuali che iniziano o vuol dire essere puntuali cinque minuti prima? Se arrivi in ritardo, partecipi o non partecipi alla riunione? Oppure prendere piena responsabilità degli errori. Cosa vuol dire nella pratica? Cioè lì sono bellissimi da raccontare, no? Però prendere responsabilità vuol dire che se una persona mi dice non è colpa mia, la verità è che non c'è, non so come dirti. Dico, va bene, ma a me non interessa che tu mi dica non è colpa mia, a me interessa che mi fai capire cosa possiamo evitare la prossima volta per evitare l'errore, no? Cioè cosa dobbiamo fare la prossima volta per evitare l'errore. Quindi è esattamente, cioè questo tipo di praticità poi fa la differenza. E questo focus sul dettaglio fa la differenza secondo me nel tempo. Questa è un po' la mia esperienza, poi non so se... Sembro pazzo? Sto cercando per ognuno di questi di scrivere una cosa. Eh? Non sembro pazzo? Scusa, no, state cercando per ognuno di questi di scrivere una cosa operativa molto precisa che renda la regola... Sì, sì. Io sto, anche questo, sto spoilerando delle cose che non dovrei fare, però non dovrei dire. Però sto scrivendo, mano a mano che vedo, mi sto segnando tutti i casi che possono affittare in un caso oppure in un altro. Quindi qual è stato il comportamento di fronte a questo tipo di decisione? Abbiamo deciso di fare così, abbiamo deciso di fare così. Perché alla fine poi è questo, no? Come portare la nostra cultura nel quotidiano. Per cui sì, ci metterò un po'. Non lo faccio in due giorni, ecco. E poi lo potrai fare automatizzato, puoi fare machine learning, tutte le decisioni vecchie, per sparare fuori un outfit. Eh, purtroppo... Eh, tu ridi, ma è più o meno così che funziona. Vabbè... Però devi scrivere a mano tutto quello un po' pesante. Però immaginate la disciplina di scrivervi sempre quando succedono queste cose, come avete deciso, quali sono i temi, cosa è emerso, come ci si può muovere, e rendere una cosa molto chiara e semplice per tutti. Secondo me la vita è molto più semplice quando sai esattamente cosa devi fare, no? Focalizzi il valore aggiunto su fare le cose e non sul pensare come le devi fare. ha senso? Molto bene. Vai. La prima sul work it with me e con gli altri, come la domanda è anche gli altri hanno fatto il tuo stesso prospetto? Sì, sì, e quelli che non l'hanno fatto gliel'ho chiesto. Ok, quindi ogni volta che una persona deve scrivere una mail a te o a qualcun altro deve andare a intersecare i vari... No, tendenzialmente la mia esperienza è che Luca e Andrea faranno la differenza nel working with all'interno del business, se ti devo dire la verità. Quindi se io entro oggi in un business, cosa che ho appena fatto, cosa vado a vedere? Il working with di Paolo e delle 3-4 prime linee perché poi sono quelle che costruiscono la cultura e fatta dal founding team, dal management. Posso aprire una parentesi? Un altro dei grandi learning che ho avuto negli ultimi 8 anni e che è un pochettino idealista devo dirvi, mi sono un po' perso nel tempo, è che in realtà le aziende come entità non esistono. Quindi quello che noi ci dimentichiamo è che le aziende sono fatte dall'interesse delle persone che le guidano. Quindi quando pensate a cosa si deve fare all'interno di un business, spesso quello che viene definito come l'azienda è un'entità vacua. Cosa si deve fare in un business dipende dall'interesse di chi guida quel business in quel momento o dall'interesse degli investitori di quel business in quel momento. Se voi capite l'interesse di chi guida il business e degli investitori, capite molto meglio qual è la direzione. Questo è un errore che ho fatto io nel passato, non so se ha un senso quello che sto dicendo, però è la stessa cosa che vale per il tuo capo, vale per te, vale per le persone sotto di te. Spesso cosa succede che si fanno dei principi su delle differenze di interesse. Cioè si ragiona, si discute a livello di principio quando semplicemente due persone non sono interessate a portare avanti un certo tipo di progetto. Ma è il loro modo di utilizzare il principio, l'azienda, per difendere un loro interesse personale. Niente di più. Si capisce questa cosa? Ha un senso quello che vi ho appena detto? Io ci ho messo otto anni a capirla questa roba, se devo dirvi. E mi ha sbloccato una serie di cose favolose, perché poi la verità è che nel momento in cui capisco se io sono allineato all'interesse del mio capo, allora va tutto bene. Il giorno in cui però non sono allineato, cosa faccio? Sono io che non sono allineato, lo so benissimo, so benissimo qual è il suo interesse, simple as that, cioè nel senso. Noi oggi il nostro interesse è costruire one day, portarlo a 100 milioni e costruire una cosa più grande possibile. Se tu vieni da me e mi dici, guarda, per farlo ho trovato un metodo favoloso, sono la prima persona più interessata a farlo. Non so come dirti, ti ascolto subito. Ok, e poi ti volevo chiedere, non ho ben capito se tutti questi principi erano già applicati in Westwing o se stai utilizzando questa nuova occasione per… Un mix, è un mix. Io alcuni li ho portati a casa da Westwing, alcuni proprio me li sono segnati leggendo e sulla base della mia esperienza. Sempre nella mia solita logica, playbook, eccetera, eccetera. Questo era chiaro, no? La domanda era se già in Westwing eri riuscito a far entrare nella cultura delle persone, questa nuova esperienza è un modo per, come dire, ripartire da zero, diciamo, con nuove persone. Ok, devo dirti da una parte principal no, in Westwing non li avevo mai presentati. Ok. Perché è una cosa che mi ero costruito nel tempo. Westwing era un business internazionale, con un headquarter, con una sua cultura, quindi noi avevamo preso una parte di quella cultura, cioè non una parte, avevamo preso quella cultura e l'avevamo portata anche in Italia. In questo caso sono io con Paolo e soprattutto Paolo, se ti devo dire, che lavoriamo sulla cultura. Quindi è un ruolo completamente diverso. Mi sono segnato tutto nel tempo e quando sono arrivato gli ho detto, Paolo, guarda, io vengo perché la cultura è fighissima in questo momento in One Day. Cioè non ho mai trovato un'azienda così nella mia vita. By the way, se hai voglia di ascoltarmi, io mi sono anche segnato negli anni tutte queste cose molto più operative che vorrei portare e che secondo me sono super fitting rispetto alla cultura generale di One Day. Ha senso? Sì. Bene. Sì, sì, io sono qua. Ciao, io sono Riccardo, sono il CIO di questa azienda. Me lo ricordo, mi ricordo, sì, 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 avevo visto un po' di domande fatte da te. Allora, la retention delle persone. Voi siete un'azienda che ha tutta una serie di politiche. Io conosco un po' quelle di WeRoad, più che altro perché poi ho già viaggiato con WeRoad così, però c'è il viaggio una volta all'anno, tutta una serie di cose. Ora, in generale, secondo te, per la retention delle persone, anche rispetto al grafico che mi facevi vedere prima dei soldi, cos'è la cosa più importante? Cioè, di tutte le cose che ci stiamo raccontando, alla fine le persone poi decidono di rimanere perché? Un mix. Interessi personali, generalmente, allineati agli interessi dell'azienda. Questa è la risposta semplice. Nel nostro caso, noi quello che cerchiamo di fare è di investire una quantità di tempo, di ore, di soldi, di formazione sulle persone, tale per cui non possono trovare niente di meglio. Non so se posso… perché? Perché facciamo… mi sembra che Paolo ve l'avesse raccontato. Noi facciamo feedback, 360, diamo quattro momenti di feedback, una volta all'anno facciamo una scheda super dettagliata sulle persone. Adesso abbiamo implementato la One Day Academy, quindi ogni 2-3 settimane dedichiamo 2-3 ore a questo livello di dettaglio per cercare proprio le persone di portarle a crescere e di fare più empowerment dei leader. Abbiamo tutta una serie di benefit, eccetera, eccetera. La cosa più semplice, se posso dirti, la cosa più semplice però che smuove davvero le persone è un po' qual è la visione e l'obiettivo dell'azienda. Cioè tu in che fase della vita sei, quali sono le tue ambizioni, quanto l'azienda è fitting rispetto alle tue ambizioni. Questo è un po' il tema. Quanto i tuoi valori come persona sono allineati rispetto ai valori dell'azienda, no? Cioè se non sei abituato… vi faccio un esempio, io magari vengo da un mondo un po' meno puro startup, vengo anche da un mondo un po' più aziendale, corporate, e quindi se non hai un certo tipo di approccio alla vita, in un mondo come il nostro fai veramente fatica perché non è tutto inquadrato, tutto incasellato. Devi anche un po' imparare tu e devi essere tu bravo a guidare la comunicazione, a gestire la criticità dell'ultimo secondo. E se vai in stress, cioè se sei una persona che si stressa di fronte alla qualunque, duri tre settimane. Perché alla fine della terza settimana ti sembra che il mondo ti sia caduto addosso perché non hai un supporto dal sistema, no? Allo stesso tempo se invece sei uno come me che naviga di fronte al problema, cioè prendo il problema, lo ingurgito, lo mastico, e trovare il modo di semplificarlo mi dà una grandissima soddisfazione, allora lì fai molta meno fatica. Cioè ci sono proprio delle attitudini delle persone in questo senso. C'è chi cerca stabilità e c'è chi più avverso il rischio e cerca stabilità e chi è più, tipo me, diciamo favorevole al rischio, al portare di fronte al potenziale, diciamo, impatto rilevante sul mondo, mettere in gioco tutto. Ok, poi, allora ho visto questo weekend The Great Hack, il documentario quello su Cranbridge Analytica, non so se tu l'hai visto. Purtroppo non ancora tutto, l'hai visto un pezzo, devo dire. Ok, mi ha un po' sconvolto perché, come dire, tutta una serie di cose su cui già riflettevo e pensavo un po', mi sembra che me le abbia un po' confermate. Voi usate tantissimo i social, perché We Road, Scuola Zoo e quant'altro. Quindi, intanto, quello che è un po', vabbè, così te lo chiedo come curiosità, se anche al mondo della politica e dell'orientamento politico ci avete mai riflettuto, perché chiaramente voi avreste il potere, avreste anche probabilmente le competenze per poter orientare quello che pensano le persone, vabbè, questo è un po' più così per curiosità mia, e poi in generale appunto come vedi l'evoluzione del mondo dei social dove sta diventando un mondo molto aggressivo e dove ormai le fake news e quello che vedi è molto difficile da orientarsi. Un po' voi se state approcciando questo tema, se ci riflettete, se ci avete pensato. Allora, premesso che mi fa stranissimo questa domanda che mi hai fatto, perché mi hai fatto una domanda molto simile a una giornalista settimana scorsa e non so da come vi possa venire in mente una cosa di questo tipo, però no, cioè non c'entriamo niente con quel mondo lì. Noi quello che cerchiamo di fare è mettere insieme le persone con delle relazioni vere, quindi esattamente l'opposto. E io non ti nascondo che uno dei motivi veri, cioè uno dei motivi principali per cui ho deciso di fare l'all-in in one day è proprio questo, cioè io sono convinto che ci sia un'esigenza latente delle persone di far parte di qualche cosa di più grande. Lo dico sempre e lo ripeterò sempre. Noi risolviamo quel tipo di esigenza. E questo era il primo tema. Il secondo tema era i social media. Io i social media li vivo assolutamente come un'opportunità, è un mezzo che sto imparando, cioè Paolo ragazzi è il super pro e one day in generale sono dieci anni avanti rispetto a quello che era la mia competenza, quindi è una di quelle cose che sto imparando da one day. Cioè il team di one day ha un livello di professionalità, di gestione di social media che non avevo mai visto da nessuna parte. Questo è un po' sia di scuola zoo che di we road, cioè proprio perché poi perché per noi è un canale per raccontare al mondo quello che facciamo e quello che siamo e quindi rimane un canale per tenerci super vicini al target. Se tu dici io quanto vengo influenzato dal mondo dei social media, sicuramente tantissimo, ma è un tema che non ho mai affrontato in modo così strutturato. Comunque anche l'altra volta avevi fatto delle domande super pesanti. Ho visto un paio di video, lui fa sempre delle domande molto profonde. E l'ultima, allora ti faccio la stessa che ho fatto a Paolo come conclusione l'ultima volta. Italia, voi avete deciso di creare tutto questo in Italia. Perché? Se vale la pena rimanere in Italia per i giovani italiani così? Sì, sì, sì. Era una bellissima domanda. Paolo mi ha risposto in un modo. Bellissima domanda. Vediamo se siete allineati oppure disegri e incommiti. Spero di essere 100% allineato. Sono super patriottico in generale. Quindi io sono convinto che sia in assoluto il paese dove si vive meglio al mondo. Secondo me è importante ed è un nostro dovere in questa fase visto che non abbiamo l'opportunità cercare di portare questi valori all'estero e non di andare noi all'estero. Però, lato mio, nel senso ho fatto l'esperienza all'estero ho lavorato all'estero, ho lavorato in un'azienda tedesca quindi per me era un valore aggiunto lavorare in un'azienda italiana costruire un'azienda italiana da portare però internazionale. Quindi la mia sfida è al contrario. Io ti dico, io vorrei conquistare il mondo partendo dall'Italia e non partire dal mondo per arrivare a conquistare l'Italia. Ecco, questo è un po' il messaggio. Grazie. Grazie mille. Comunque lo sapevo che mi avreste massacrato così cento per cento. Eh? Sì, sì, ma è giusto, è giusto. No, allora, ho pensato adesso a come strutturo la mia giornata in termini di ore e mi sono resa conto che dal punto di vista del lavoro alla fine sono operativa nel senso, per esempio, in questa fase della mia vita per essere operativa vuol dire che o sto scrivendo codici o sto sviluppando delle dashboard quindi sono operativa cinque ore al giorno. Ho dodici ore di gestione cioè in cui leggo le mail, rispondo le mail magari in dodici ore ne ricevo poche però potenzialmente sono operativa e ho ventiquattro ore di operatività di idee nel senso che mi succede sempre e molte volte cerco di staccare tanto nel tempo libero perché è il momento in cui mi vengono le migliori idee ma anche proprio sul codice che magari riesco a sbloccarlo. Mi rendo conto che è una cosa molto soggettiva che dipende probabilmente tantissimo dal tipo di lavoro che uno fa perché forse tu non hai un'operatività ora sei quasi solo manager. In realtà il mio lavoro richiede esattamente l'opposto quindi il mio lavoro richiede massimo focus per brevissimo tempo su dei topic in cui devo essere in grado di fare il drill down nel tempo più rapido possibile. Quindi esattamente se vuoi la mia agenda dovrebbe essere esattamente l'opposto della tua. Quello che mi chiedo è come fai tu nel lavorare con persone che hanno una struttura diversa o perché hanno come nel mio caso un lavoro diverso o perché sono persone che proprio si relazionano al lavoro in modo diverso e quindi per esempio lavorano 8 al giorno punto non esiste che ti rispondano a un whatsapp. Sì, non c'è nessun problema infatti nel mio working with non ho nessun tema il fatto che io lavori tanto non pretendo che le persone lavorino tanto. Perché poi per me non è per forza lavorare tanto appunto io non sono operativa 8 al giorno lo so, non ci riesco proprio e penso che abbia più valore il fatto di per me personalmente riesco a portare più valore strutturando così la giornata però a volte è difficile relazionarsi con strutture diverse tra persone che magari hanno uguale operatività ad esempio Sì, diciamo che è un po' il mio Se in passato magari ti è successo quando veneri così bene Sì, provo di darti due angoli diversi da una parte ti do l'angolo della mia agenda io ho strutturato l'agenda in modo tale per cui ho dei momenti di deep work quello che vi dicevo prima in cui faccio proprio mi dedico del tempo di strategia di solito il venerdì tra l'altro ho copiato da Luca se devi devo dire questa cosa perché me l'ha detta lui io il venerdì o il giovedì di solito ho quattro ore di tempo ininterrotto in cui mi focalizzo su un tema mi piace tantissimo fare i meeting quelli in cui non ci sono non ci sono pc non c'è niente non c'è mail non c'è telefono e di fronte a una lavagna si ragiona solo sui numeri e si ragiona sulla parte più strategica si fa challenge a delle decisioni strategiche quindi ho un pezzo della mia agenda dedicato a fare quella cosa lì anche se non l'avete visto perché in realtà era un'agenda di un'altra persona però settimanalmente quattro ore di solito le dedico a quella cosa lì dall'altra parte devo essere bravo io ad adeguarmi alle persone ed è una cosa su cui in realtà è stata una domanda interessante è una cosa su cui sto lavorando perché uno dei temi di questo sistema è che ogni tanto rende un po' flattish la parte di relazione e quindi una volta che ho questa struttura cerco io di adeguarmi alla persona che ho di fronte quindi il mio stile di leadership sto cercando di cambiarlo a seconda se sei una persona che è mossa da un certo tipo di cose piuttosto che da una serie di altre cose primo one to one ti chiedo un po' di cose nel one to one continuo a farti le domande e poi quando capisco che sei mosso da determinate cose rispetto ad altre cerco di adeguarmi io però ci sto lavorando adesso ti devo dire la verità e mi ha aiutato un sacco a fare questi one to one con i ragazzi quelli da 30 minuti con tutto il team perché è super interessante vedere come ognuno di noi è mosso da motivazioni diverse l'interesse famoso di cui vi parlavo prima quando capisci qual è il percorso che vogliono fare come li puoi aiutare spesso è semplicemente non so allineare tutta la catena per fare in modo che questa cosa accada nient'altro è già lì è già lì l'interesse è già lì l'ambizione è già lì tutto quindi è un po' il mio mestiere credo da un punto di vista di invece strutturazione dell'agenda considera che ho 13 riporti diretti faccio 13 one to one quindi io mi alzo al lunedì mattina ho già 13 ore di one to one quindi e ogni one to one parla di topic completamente diversi da una parte c'è debito bancario dall'altro è hiring piuttosto che nell'altro caso è proprio piattaforme digitali cosa dobbiamo fare e ogni volta devo riuscire a capire qual è il punto critico su cui posso sbloccarli quindi è un po' è un po' completamente opposto il lavoro che devo fare tu hai whatsapp si lo usi per lavoro si come lo gestisci nel tuo piano macro per una questione di priorità arriva sempre dopo nei momenti morti perché non è facile gestire assolutamente no devo dirti che siccome in one day c'è proprio una competenza di gestione whatsapp spaventosa oltre ai social media mi stanno anche insegnando un po' a gestire whatsapp non ho mai scoperto cioè non sapevo fino a una settimana fa che in realtà si possono segnare in non letti e mettere in alto le cose però devo dirti che una cosa bella di questo sistema è che non ho bisogno che le persone mi cioè è tutta la parte mia personale di lavoro c'è veramente poco quindi di lavoro non lo utilizzi molto no poco non è che non lo utilizzo lo utilizzo ma poco lo utilizzo in modo molto mirato o se mi scrivono sanno già che posso nel mio working with è whatsapp va benissimo però no messaggi vocali perché non li ascolto e non aspettarti follow up perché magari lo leggo mentre sto andando da una sala all'altra se hai bisogno che ti faccia follow up mi mandi una mail e il mio sistema è sempre infallibile ok quindi non c'è non c'è pericolo di perdersi dei follow up perché comunque li rifiuti esatto e su whatsapp mi piacciono molto le negoziazioni se posso dirti però io diciamo quando avevo rapporto con i fornitori siccome oramai non si chiama più nessuno è molto difficile chiamare però la negoziazione su whatsapp se sei bravo è una roba super diretta e super effective ok bene grazie li abbiamo uccisi oggi allora vai una domanda anticipata da un'informazione che serve a tutto si ricollega anche a quello che diceva Caterina prima negli Stati Uniti c'è un summit sulla cultura aziendale si sta portando anche in Europa cioè questo tema della cultura aziendale sta montando quindi dei sistemi di questo tipo qua che diventano dei fatti e delle best practices perché è successo un fatto a livello globale particolare ed è che la stabilità dei lavori proprio l'indice con cui le persone cambiano lavoro determinati dal contesto è schizzato negli ultimi 30 anni quindi le persone lavorano meno tempo nello stesso ruolo nella stessa azienda quindi cambiano azienda o cambiano ruolo all'interno dell'azienda questo dovuto al fatto che i contesti in cui operano hanno di forti cambiamenti e i millennials soprattutto escono dall'azienda principalmente perché non c'è un fit con la cultura aziendale cioè o si accorgono di non fittare con la cultura aziendale o si accorgono che i principi dichiarati della cultura aziendale non sono praticati dal management quindi gli è stata fatta una promessa e loro ne escono ma attenzione ne escono anche quando non hanno un altro lavoro questo varia chiaramente in mercati del lavoro un po' più fluidi in cui uno pensa di trovare tipo quelli anglosassoni ma capita anche a Milano ci sono più persone che sono andate via da aziende che io conosco ragazzi della vostra età perché dicevano compromessi sui valori sulla cultura non via quindi il dichiarare bene adesso lui ne ha fatto anche un sistema gestionale e quindi entra più nel dettaglio però a un livello sufficientemente alto da non essere troppo dettagliato ma sufficientemente basso da essere compreso nell'operatività è una condizione con cui i talenti li ritieni se poi pratichi gli stessi principi non farlo genera una selezione avversa nelle persone che rimangono cioè paradossalmente quelli che rimangono nonostante un anfite la non chiarezza culturale sono quelli che non vuoi e se ne vanno quelli che sono più svegli e la domanda è nella selezione che fai dei nuovi quindi al di là dell'elemento di esistente in che modo dichiari la cultura aziendale cosa che la puoi fare in modo molto semplificato e quindi da un lato filtri sul fatto se loro aderiscono a questo sinceramente e dall'altro gli dici tu mi stai comprando cioè io sto prendendo te ma tu stai comprando l'azienda e quindi voglio essere trasparente su quello che troverai e quello che non troverai sì devo dirvi su questo abbiamo implementato quella che è la best practice che ho mai visto nella mia nella mia storia lavorativa adesso abbiamo questo calcio manifesto noi mandiamo sia che sia WeRoad sia che sia OneDay adesso stiamo lavorando anche su quello di ScuolaZo mandiamo e tutte le altre companies del gruppo però mandiamo il nostro calcio al manifesto alla persona chiaramente prima facciamo tutto il processo quando pensiamo che la persona sia fitting mandiamo il calcio al manifesto io adesso mando anche il working with sono super trasparente esattamente come parte dei miei valori sono super trasparente quindi gli dico guarda questo è il nostro calcio al manifesto questo è il mio modo di lavorare soprattutto su C-Level faccio proprio vedere qual è il nostro piano industriale che ho presentato alle banche cioè gli faccio vedere il deck lo stesso deck che ho dato è ingaggiato allo stesso modo che ho dato alle banche chiediamo agli investitori chiediamo a chiunque in modo tale che comunque sappiano esattamente cosa stanno venendo a fare perché quello che stanno venendo a fare è una cosa molto complicata che ha ups and downs tipo montagne russe e se non sei pronto ad affrontare questa cosa e non sei allineato alla cultura ti schianti a tempo zero ma perché? perché la cultura ti erode dentro cioè il fatto di non essere allineato a determinati valori dell'azienda ti erode cioè nel day by day quando si prendono le decisioni che prima dicevamo con Caterina alla fine dici caspita ma io la vorrei fare così perché devo farlo così non sono d'accordo e questa cosa ti erode cioè ti rende molto più stressato senza senso quando invece spesso può capitare che un'azienda su cui hai un fit culturale totale si muove esattamente e decide esattamente come decidi tu nella tua vita nella tua vita privata e non hai neanche un tema di allineamento in quel caso quindi se devo dirti questo è il mio modo di di gestire la cosa ma l'ho implementato due settimane fa per adesso quelle persone con cui è successo dimostrano un rispetto e un allineamento e una discussione a dei livelli molto più pratici e dicono guarda sono d'accordo su questa cosa del calcio manifesto mi ritrovo molto in quest'altra cosa del calcio manifesto in quest'altra cosa non mi ritrovo e allora lì la discussione cambia non so sono stato un po' concettuale ma spero di di aver passato e confronto su quello esatto esatto quindi mando la mail nella pratica con calcio manifesto e il working with e dico guarda così è lavorare in one day in questo momento e poi abbiamo anche la fortuna comunque di essere B2C le persone ci conoscono molto di più quindi abbiamo un appeal sul sul candidato che parte già sapendo esattamente cosa facciamo perché magari è viaggiato con noi è cresciuto con noi quindi tante cose ci vengono molto più facili però soprattutto sulle persone un po' più senior e i professionals che magari vendono da un mondo più corporate mandagli il calcio al manifesto se posso dirti è l'impatto più grande che possiamo dare nella relazione perché a me non era mai successo che qualcuno mi mandasse il calcio al manifesto prima di entrare in azienda e dire guarda che per noi questa è la cosa più importante prima di tutto viene questo se sei aderente a questo bene se no non venire neanche qua non perdiamo tempo perché quanto tempo io non so voi non so se sapete statisticamente il 20% degli hiring sono sbagliati cioè indipendentemente che fai hiring di mille persone ma che ne fai di 50 quindi uno su cinque in un modo o nell'altro è sbagliato e spesso è molto più per la parte culturale e filtrare questa cosa noi ci vediamo del valore immenso poi ti saprò dire nel tempo cosa succederà no per questa cosa che hai detto dell'hiring che hai detto per noi è anche molto facile perché essendo B2C la gente ci conosce anche al Sant'Agostino la gente ci conosce però è quasi un problema secondo me nel hiring nel senso che a me molto di frequente capita che parlo con dei miei amici o delle persone che conosco e gli racconto cosa faccio gli racconto dell'azienda e dicono ah che figliata voglio venire a lavorare da voi ma fino a un minuto prima cioè ci vedono solo come rogatore sanitario quindi faticano a capire che dietro ci può essere tutto un mondo manageriale innovativo che funziona stimolante con il cultural eccetera eccetera quindi secondo mentre forse per una realtà come sicuramente tipo WeRoad è più vendibile forse secondo te come fare per sbloccare nella mentalità delle persone il più velocemente possibile questa immagine dell'azienda il challenge il challenge che ti faccio però è vi serve cioè ti serve sbloccare nella mentalità delle persone perché voglio che venga a lavorare da noi gente brava ok ma nel momento in cui le racconti la gente brava sì esatto però come fare perché non debba essere io che vado lì da tutti e gli dico guarda che io faccio una figata vieni cioè ci sta però la probabilità che io copra uno che in quel momento sta cercando lavoro che corrisponde a quello che noi cerchiamo in azienda eccetera è un po' più bassa che se ho magari più strumenti immagino che sicuramente la comunicazione cioè un sacco di cose che possano essere utilizzate se ti viene in mente una ricetta no non c'è una ricetta purtroppo però secondo me è tanto un tema di mindset cioè la verità è che il mindset lo trasmetti nel modo che hai di parlare di raccontare quello che fai se tu ad una cena racconti in modo super entusiasta il tuo lavoro quotidiano comunque le persone indipendentemente da quello che farai saranno interessate e incuriosite questa è la singola cosa più diciamo più forte in termini di word of mouth poi voi dall'altra parte dovete sapere che comunque siete un'azienda investita da un investitore importante state facendo la storia siete il numero uno degli erogatori sanitari come vi avete detto prima in questo momento in Italia quindi c'è una storia da raccontare che a un certo punto voi dovete sapere come raccontare al meglio come facciamo a scalarlo cioè io sono stufa che ha una cena di dieci persone una quando gli inizio a parlare del Sant'Agostino sa già tutte queste cose vorrei che quando io gli dico lavoro a Sant'Agostino nove mi dicano ah minchia si voi fate questo e questo e questo che figata vorrei lavorare per voi cioè vorrei che fosse devi dire a Luca di investire devi dire no 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 però posso dirti io in realtà l'ho sempre vissuta come una enorme opportunità quando mi è capitato che le persone non conoscessero quello che facevo perché perché comunque ci sono delle fasi diverse dell'azienda no? se sei in una fase crescente scoprirai che nel tempo da una diventeranno due diventeranno tre diventeranno quattro però non puoi pensare che dopo domani succeda che lo conosceranno tutti in questo momento siete un po' una perla nel sistema e vi posso assicurare che quelli che lo sanno lo sanno cioè quelli che lo devono sapere in un modo o nell'altro lo sanno devi secondo me avere tu anche un minimo di due tre punti chiave da trasmettere che sai che ti triggerano l'interesse delle persone se vuoi se ti interessa perché mi pare di capire che ti interessa i parli due secondi sono convintissimi il problema è che gli devi parlare tu e quindi vorrei oppure se no l'alternativa guarda se vuoi la mia esperienza West Wing Luca spendi un sacco di soldi in televisione quella funziona tantissimo per creare brand awareness però il rendimento di questa cosa da un punto di vista di business è un po' un po' più diciamo allora comincio a farti domande io vai hiring parliamo di hiring la prima domanda in realtà mi viene da una chiacchierata che ho fatto con te che poi ho elaborato nelle settimane successive nei mesi successivi il problema che mi sto ponendo è che non riesco ad uscirne vivo è questo quando tu guardi una persona ha delle caratteristiche fisiche molto semplicemente alcune di queste sono immutabili e alcune sono mutabili l'altezza il fatto che i tuoi capelli sono neri il colore dei tuoi occhi sono immutabili i tuoi muscoli o il colore della tua pelle è mutabile è molto probabile è molto sensato che la stessa affermazione si applichi a ciò che sta dentro la mente delle persone quindi le caratteristiche psicologiche il problema è che questo know-how sembra non averlo nessuno o averlo un sacco di persone in modo che uno dice una cosa e uno dice un'altra quindi il primo problema che io mi pongo nell'i-ring è che non ho una sorta di checklist di cose che sono immutabili e di conseguenza quando scelgo una persona se è importante che ce l'abbia o non ce l'abbia se quella persona non ce l'ha non va bene e quelle invece che sono mutabili dove invece l'idea è se entra dentro un contesto in cui può cambiare bene e cambierà e quindi è accettabile il fatto che in questo momento non abbia quella caratteristica ce l'avrà dopo cosa ne pensi innanzitutto di questo aspetto delle domande facilissime allora in realtà una delle cose che stiamo facendo in One Day è anche una cosa che noi chiamiamo Sales Academy a me piace molto questa parte di Psychology of Persuasion quindi quali sono i tricks per persuadere le persone o dall'altra parte che puoi utilizzare nel valutare un rapporto ok e quello che noi non ci ricordiamo mai è che l'80% delle decisioni in ogni momento sono più fatte dalla pancia che dalla testa ok quindi se tu parti dal presupposto che l'80% delle tue decisioni sono da quello che ti dice la pancia e non la testa da quale macchina compri a quale casa comprerete a per quanto uno cerchi di essere super diciamo strutturato in questo in realtà ti si aprono un sacco di mondi ok per cui quali sono gli step che io di solito cerco di strutturarmi è innanzitutto quanto quella equazione del growth è aperta a quella persona a imparare ok due faccio un'altra cosa che faccio parlare il più possibile la persona quindi faccio quello che viene in gergo sales chiamo l'active listening le faccio delle domande semplicemente le chiedo cosa vorrebbe fare qual è il suo lavoro dei sogni cioè ci sono tutta una serie di domande che sono basilare a piacere però capisci quanto le persone ci hanno pensato e che tipo di approccio hanno in generale alla vita e questo per me è fondamentale banalmente devo aprire una parentesi spero di non perdervi tutti perché è tardi guardavo un video di due giorni fa di Simon Sinek che non so se conoscete è una persona che è molto rilevante su pensiero strategico eccetera eccetera e lui ha analizzato quali sono i valori che vengono monitorati dalla best performing organization del mondo che sono i Navy SEAL praticamente i Navy SEAL misurano le persone sulla base di due assi un'asse è la performance un altro asse è il trust ok e quello che loro fanno è una persona ad altissima performance e a basso trust non la vogliono anche se ha altissima performance quindi gli asshole gli stronzi non li vogliono loro preferiscono al 100% lavorare con delle persone mediocre che però hanno un altissimo livello di trust perché quando sei nel momento in cui hai bisogno quelle sono le persone che saranno con te e supereranno i problemi che ci saranno la stessa cosa vale un po' nelle organizzazioni se ci pensate e quindi una delle cose che mi interessa sempre capire poi ve la sto condendo un po' però una delle cose che mi interessa e che cerco sempre di capire è il livello di trust di queste persone quindi come approcciano le relazioni umane sono persone affidabili oppure no sono persone che hanno mollato a un certo punto della loro carriera perché era troppo difficile oppure sono delle persone che sono rimaste lì ma poi quando era il momento se ne sono tante di queste cose sono ricorrenti sulla carriera delle persone quindi più le faccio parlare tanto l'altra cosa sono le passioni quindi cerco proprio di capire quali sono le loro passioni nel quotidiano tutto questo fondamentalmente lo uso come check del mio gatto però fondamentalmente ho già deciso se ti devo dire in modo molto trasparente quindi è come se facessi una checklist molto semplice di una cosa che però penso nel momento in cui l'incontro non hai paura del bias secondo cui selezioni i tuoi cloni in realtà io sono molto ammirato da persone molto diverse di me molto diverse a me c'è un rischio però ammetto che c'è un rischio cioè quindi se devo darti la risposta onesta mi è capitato di trovare persone molto complementari a me stessa tipo Paolo malamente che però non è un hiring fondamentalmente è una persona con cui ho deciso a un certo punto della mia vita di fare un percorso diverso allo stesso tempo tanti dei miei collaboratori sono persone che sono molto più forti su degli aspetti ben precisi tante le persone del mio team sono molto più bravi di me a fare una serie di cose che io sono molto meno bravo molto meno bravo di loro a fare ok tipo nel mondo sales ho trovato delle persone che erano molto più forti di me a seguire una parte di processo che per me era un grosso tema cioè a me piaceva costruire il processo e non rispettare il processo e quindi mi completavano in questi casi a seconda dei ruoli se trovo un po' di complementarietà mi viene molto più facile se però mi dici devo trovare domani l'MD di una delle aziende molto probabilmente quella sarà un semiclone mio perché semplicemente mi ritroverei molto bene nel lavorare con queste persone poi alla fine io sono convinto che comunque ci passi otto ore al giorno cinque giorni alla settimana spesso lavori dodici quattordici ore è fondamentale non c'è niente da fare se non ci si trova non ci si trova capita che ognuno di noi abbia degli interessi diversi per quanto io sia molto malleabile mi adeguo molto alle persone che ho di fronte cosa pensi della pigrizia? la rispetto ogni tanto anche a me piace essere un po' pigro devo dire però cerco di tenerla nella mia parte privata della vita e cerco di dedicargli dei momenti abbastanza definiti poi non so se leggere un libro oppure guardare un documentario lo vivi come una cosa di pigrizia non lo so specifico la domanda quel ragazzo Marco se ha fatto un po' di tempo fa una presentazione qua com'era il titolo? perché è importante essere pigri pigrizia ha fatto una presentazione sulla pigrizia in cui il messaggio di fondo di quella presentazione è che le persone più produttive al mondo sono i pigri e la motivazione è abbastanza semplice perché il pigro è così infastidito e spaventato dal fare le cose che fa di tutto per trovare sistemi per non farle ma non c'è il pigro negativo diciamo quello che fa di tutto trovare sistemi non farle nascondersi far finta di nulla e così via poi c'è il pigro comunque eticamente forte e che vuole partecipare alla società in cui vive che quindi trova delle soluzioni fantastiche che gli fanno risparmiare tempo energie e così via per non farle no? e però l'assurdo della presentazione che ha fatto Marco è che in realtà il pigro quando è veramente pigro lavora un casino perché è così infastidito dal fare le cose che c'è sempre qualcosa da fare no? certo ecco nella tua presentazione e in tutto il tuo sistema di management traspare un fastidio per la pigrizia e traspare e traspare un'altra cosa traspare il fatto che tu sei un grandissimo mentor ok? mi chiedo se ti consideri un bravo coach non ne ho idea se vi devo dire la verità sono in una fase della vita in cui cerco un po' persone da cui fare a cui fare coaching è una cosa che mi diverte un casino cioè quella parte di mentoring che faccio ai ragazzi è una cosa che mi dà una soddisfazione incredibile perché banalmente capisco un sacco di cose cioè nel trasmettere le informazioni ad altri si capiscono un sacco di cose su se stessi questo è un po' un tema ti rispondo prima sulla pigrizia la verità è che io sto benissimo a non fare niente non è che mi piace un casino mi piace guardare un sacco di documentari mi piace leggere libri a nastro cioè passerei giornate intere senza parlare con nessuno leggendo è che semplicemente a un certo punto questa roba la devo trasferire a qualcun altro come dicevi tu quindi per me tutto questo sistema è eliminare tutta la parte di inefficienza che non crea valore per liberare il mio cervello a pensare a cose che possono creare valore non so se ti ho risposto è fantastica la risposta io sono un pigrone mi piace leggere mi piace guardare mi piace la pigrizia però in quella pigrizia ci metti ci metti un sacco di cose sì è la pigrizia però che mi permette di crescere e di imparare non so come dire quella per me è un po' forse non ho risposto faccio una domanda invece più personale e quasi intima cosa a cui anche io penso da tantissimo tempo che è appunto l'equilibrio tra la vita professionale e la vita non professionale mettici dentro famiglia figli amicizie sport hobby quello che succede sappiamo che c'è una fortissima tensione per le persone che fanno lavori interessanti a essere risucchiati nella parte professionale e fondamentalmente è il parossismo della frase che hai detto prima se una cosa è una figata io ci dedico dentro tutto il tempo che è possibile il tema qual è? che quando per esempio hai un figlio piccolo è una figata avere un figlio piccolo però dopo un po' può venirti la noia ok? se stai con una donna o una persona o un partner da dieci anni forse ti ripete le stesse cose qualche volta quindi uno dei problemi che c'è nell'equilibrio è come si fa a non essere risucchiati dall'adrenalina di quello che succede nel lavoro non ho una risposta no no a parte quello in realtà magari passa che sono lavoro e basta non è vero cioè io dico un sacco di tempo a mia moglie ai miei amici cioè tutto il tempo che posso però il mio punto è sempre legato un po' alla pecrizia forse cioè l'intensità la verità è che non è tanto il tempo che si passa con le persone ma l'intensità di quel tempo che si passa con le persone quindi cerco sempre di tenere l'intensità molto alta indipendentemente da quello che da quello che faccio ma non è detto che tua moglie voglia quell'intensità non è detto che tuo figlio voglia quell'intensità non è detto che i tuoi amici vogliano quell'intensità mia moglie in realtà è abituatissima ed è più intensa di me quindi non ho fortunatamente su quello sono stato super super fortunato su figli ripeto non ho ancora avuto la fortuna ma un giorno si spera di gli amici gli amici gli amici in realtà non lo so indagherò me lo porto a casa come compito a casa tanti degli amici sono molto la verità è che poi nel tempo si costruiscono delle cerche di amici non so se a voi è capitato io ho delle cerche di amici molto diverse a seconda delle fasi della mia vita perché ho lavorato con delle persone molto diverse e un po' crescendo quello che succede è che ti muovi cioè dedichi del tempo diverso a delle diverse cerche di amicizie quindi banalmente adesso vivo qui però io sono della zona di Malpensa quindi ho degli amici storici a cui cerco proprio di dedicare del tempo ma è chiaro che non riesco a vederli con la frequenza degli amici milanesi oppure banalmente dedico un sacco di tempo alla mia famiglia quindi ho dei momenti in cui devo assoluta cioè cerco di tornare a casa di passare del tempo con la mia famiglia e quindi lo vivo un po' in quella maniera strutturata che vi dicevo vi dicevo prima cioè cerco proprio di ragionare in modo tale da dire devo dedicare del tempo a questa cosa perché ci tengo e se ci tengo voglio costruire un sistema che lavori per me anche sulla mia vita personale sui figli non lo so ammetto che potrebbe succedere che va un po' tutto in barca domanda personale diciamo nelle cose che hai raccontato poi un po' ti conosco mi sento molto vicino a te per modi e così via non so loro se si conferma questa cosa uno dei problemi che io mi pongo è di vivere sempre dentro ad una bolla sempre frequento persone che più o meno hanno studiato quanto ho studiato io frequento persone che più o meno hanno idee e questa cosa ovviamente per certi versi è un problema perché per certi versi ti porta in una sorta di astrazione rispetto a come è fatto il mondo nel tuo caso cosa pensi di questo tema cioè ti senti dentro una bolla ti piace essere dentro una bolla no hai delle strategie tue per uscire ogni tanto dalla tua bolla come funziona non ho delle strategie quindi me lo porto a casa anche questo e lo metto nei ragionamenti ma bellissima domanda la verità è che non saprei no devo dirti non saprei non saprei risponderti nel senso che in realtà mi piace stare con tu indipendentemente ho sempre la percezione di poter imparare da chiunque perché ognuno di noi porta un suo bagaglio di esperienze di personalità di competenze sempre molto forte ok quindi quanto anche sto facendo adesso banalmente con il team mi stanno facendo scoprire che comunque ci sono un sacco di cose super interessanti nella mia vita aspetta aspetta si si non è ho capito non è la professionale è personale personale non saprei cioè ti ripeto ci sono ho cerchi di amici molto molto diverse e non ho però sono tutti i miei amici quindi come fai a valutare se sono persone molto diverse da me non lo so cioè la verità è che non lo so hai degli amici noiosi certo come tutti e ci dedico del tempo sì certo sì 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 assolutamente questo è un esempio di può riuscire dalla bolla beh poi in generale magari si dedica meno tempo agli amici noiosi e più tempo agli amici più altra domanda altra domanda che è un pallino e vorrei avere la tua opinione quando tu lavori con le persone e sei in una posizione di leadership si sviluppa in modo del tutto naturale e umano una forte aspettativa da parte di altre persone nell'essere riconosciute e nel riconoscere il loro lavoro quello che fanno quando lo fanno se questa aspettativa non viene corrisposta le persone stanno male ecco io vedo in questo meccanismo un meccanismo umano ma devastante perché è un meccanismo che diciamo che non parte dal fatto che le persone fanno qualcosa perché pensano che sia giusto farlo punto ma che in un qualche modo c'ha dietro un'esigenza di socialità di riconoscimento e così via che si viene a mancare provoca il fatto che le persone non stanno bene no uno riconosce anche te questo tipo di meccanismi e due se pensi che siano come io penso un problema come li combatti premesso che per me non esistono mai problemi ma solo opportunità questa è una bella risposta un po' no sì nel mio working with c'è un punto su questa cosa ed è che comunque chiunque lavorerà con me mi troverà sempre 100% focalizzato sui problemi su ogni minuto di problemi scusa su ogni minuto di successi e di celebrazione dei successi di solito dedico un'ora alla gestione dei problemi e sarò sempre focalizzato sulla gestione dei problemi quindi è un tema confermo su di me l'ho vissuta con pros e cons cerco di dedicarci del tempo quindi cerco di valorizzare sempre il lavoro degli altri e cerco di valorizzarlo sempre davanti diciamo davanti a più persone possibili questo spero che passi comunque alle persone che lavorano con me ma non me l'hanno mai detto come feedback quindi potrebbe essere che non sono così tanto bravo il tema grosso cioè io credo che sia umano voler che far sì che il proprio lavoro sia riconosciuto ok soprattutto se immagini che il tuo tempo tu hai non so 35 ore la settimana in cui magari incontri qualcuno all'interno dell'ufficio ok la motivazione di quelle persone è direttamente correlata potenzialmente rispetto al feedback che tu gli dai in quel momento e se tu parti da perception in questo reality cioè quello che mi hai detto tu prima la verità è creare quella percezione quando il lavoro è stato fatto e pensi che sia stato fatto bene credo sia parte del nostro mestiere no? non so se ti ho risposto sì però secondo me c'è ancora un problema cioè il fatto di lavorare con delle persone che sono autonome intellettualmente implica che quelle persone quando fanno qualcosa lo fanno perché ne sono convinte non perché gli è stato detto di fare o perché si aspettano di avere una qualche forma di premio diciamo umano nel momento in cui questo fenomeno diventa diffuso normale percepito e così via secondo me si abbassa la capacità delle persone di fare una cosa perché ne sono convinte cioè c'è una correlazione molto forte molto forte tra quanto le persone fanno qualcosa vanno in una certa direzione perché hanno capito pensato analizzato parlato con te con altri e così via e hanno deciso che quella è la cosa giusta e il fatto che quando l'hanno fatta e la cosa è andata bene traggono il 95% della propria soddisfazione dal fatto in sé e il 5% ok uno dice bravo ok bravo viceversa quando le persone fanno le cose poi guardano e dicono allora fatto bene ho fatto male vuole dire che fondamentalmente non hanno la schiena completamente dritta rispetto alle decisioni che prendono questa è la mia idea la mia percezione però sono d'accordo con te è fortemente umano non solo è fortemente umano ma nella società italiana è fortemente sociale cioè è fortemente appreso nel tempo che si fa così si annusa diciamo il gruppo sociale nel quale sei i capi cosa pensano che tipo di feedback mi danno e così via e quello determina perché faccio o non faccio ma io lo vivo banalmente anche nelle relazioni umane se posso dirvi cioè se lo ragiono su di me funziona uguale cioè se io penso che tu mi stimi e che Andrea mi stimi e che loro mi stimino dopo questa presentazione sono più contento rispetto a fregarmi non so cioè rispetto a se non mi date nessun tipo di segnale che potrebbe essere stato interessante cioè funziona allo stesso modo su di me ma penso che funzioni allo stesso modo su di te quindi io la vivo in modo anche se non ho bisogno delle pacche sulle spalle per come sono fatto alla fine se mi guardo allo specchio dico beh però comunque se un mio amico so che mi stima dico beh sono più contento cioè è sempre più facile avete un'altra domanda? vi abbiamo massacrato ragazzi sono le otto ringraziamo Mattia grazie mille per tutto è stato un vero piacere grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti